Un po' di piatti vecchi. Delle letterine. Tante cazzate, secondo me. Prima di tutto le streghe non credono nella chiesa, quindi non esiste il diavolo per loro. Ma vabbè, punti di vista. Poi c'è questo cosino qua. Peccato che c'è quella luce, non si vede una cifra. Vabbè, questo qua sembra di essere Halloween e lasciam perdere. Perché fanno solo vedere le cose brutte delle streghe, non tirano ancora le belle? Va dopo. Ho dimenticato un pezzo. Io avevo visto tutti questi cassetti, ma se voi li aprite, ci sono le foto. Guardate qua. C'è a metterle esposte e basta. Cose strane, cose strane. Non si beve questa, così. Non mi piace questa cosa, mi sembra di ficca nasare in casa d'altri. Ah, qui abbiamo anche lo schedario. Ecco, questo è già più carino. Fare una cosa più semplice. Uh, qua c'è un altro schedario, non ci penso proprio. Vabbè, questi sono disegni. Aspettate, ce n'è ancora qua. Questo. Questo, vabbè. Questa roba qua mi lasciano un po' così. Un altro schedario, vabbè. Abbiamo questo qui. Questo qua. E qua. E niente, vi ho mostrato tutto. I partite di qua o di là? Tanto arriviamo sempre là. Mi sa che... Ah, si stava meglio al museo. Cabottina, l'abbiamo già vista. La mostra anche. Ehi, c'è dal percorso. Trovi poi un vecchio con un bastone che ti dà due randellate. C'è la grotta di Lourdes. Vabbè, allora io non ci entro, che rischio di... La grotta? Di Lourdes. Qual è? Quando vanno, si piovanti dove vanno le carampane a pregare. Non fa per me, vai pure te. No, io sono più della parte di quelle che hanno bruciato, quindi di là non ci vado. No, non lo so. Diceva, magari è carina da vedere. No, non lo so. C'è il cambio. Questo è il pernano Max. Non lo so, io... C'è proprio sotto casa mia. Dieci metri sotto casa mia, non ci sono mai andato. In sette anni. Ma è lontano da qua? No, è la passeggiata, sì, ma non è lontanissimo. Però qui se partite poi gli andiamo a far fatica, l'è lunga, eh? No, 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 vabbè. Non è fatica, non arriviamo dalla Val d'Aosta. Non è un pochettino perse perché si è partita un po' così, siccome noi siamo qua in ferro.